Un uomo 58enne originario di Ragusa è stato fermato dalla Guardia di Finanza agli imbarchi di Villa San Giovanni. L'uomo diretto in Sicilia nascondeva 40 chili di hashish nella sua auto. Durante i controlli il 58enne mostrava segni di nervosismo. I finanzieri hanno deciso così di perquisire a fondo l'auto con l'aiuto del cane dell'unità cinofila di Reggio Calabria, scoprendo due doppi fondi in cui erano contenuti i 400 panetti di hashish. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 300 mila euro. Sequestrati sia droga che l'auto dell'uomo, il 58enne ragusano è stato poi accompagnato nel carcere di Argillà.